Guarda, questo anno me lo godo di una maniera molto molto particolare perché più passa il tempo e sicuramente prima o poi sarà il tempo di tornare a casa, per quello io questi momenti me lo godo in tutti i momenti, sia l'allenamento, sia in ritiro, sia nelle partite, anche se gioco di meno. Io ho una grandissima fiducia in questo gruppo e io spero che tutti insieme riusciremo a vincere qualcosa di importante. Io aspetto il mio momento, sto lavorando moltissimo per tornare ai miei livelli, sicuramente il fatto di non giocare dà un stimolo in più per quando avrò la possibilità di mostrare le mie qualità. Per quello io penso in positivo, ripeto, so che prima o poi arriverà il mio momento e sarà a me di dimostrare il mio valore. No, il mio entusiasmo a livello personale, sicuramente questi dieci anni da Juve per me rappresentano moltissimo. Ripeto, questo è un anno molto importante per me, molto molto importante in tutti i sensi. Allora io spero di poter dare il mio contributo e sicuramente sono motivato anche perché ho visto che c'è una squadra di un certo valore, che sta lavorando molto, con dei giocatori che hanno qualità. Abbiamo fatto due partiti importanti, manca moltissimo, però sarebbe bello per me a livello personale festeggiare questi dieci anni da Juve con sicuramente qualche titolo in tasca nostra. Sì, io penso che dopo questa sosta ci sarà spazio anche per tutti, non solo per me, anche per gli altri che giocano di meno. Il mister è stato chiaro in questo senso, per quello ci resta che a lavorare, essere disponibile a ogni momento, pensare in positivo perché sappiamo che prima o poi ci sarà anche il momento nostro. Guarda, sicuramente per me è un anno molto molto importante perché sicuramente alla fine di questa stagione sarà il momento di ritornare a casa, insieme alla mia famiglia. Sono dieci anni da Juve importanti nel quale ho vinto molto, ho sofferto insieme ai miei compagni, ho fatto moltissimi, moltissimi sforzi. Per quello, per me sarebbe importante finire la mia storia con questa squadra vincendo qualcosa. E sono motivato perché ho visto che c'è lo stimolo, c'è la volontà, c'è la voglia e ci sono i giocatori. Penso che questa sia la cosa più importante. Allora, per quello, io mi godo ogni momento, in tutti i sensi, e spero di poter dare il mio contributo perché me la sento, perché ho voglia di dare il mio contributo. L'anno scorso è stato un anno un po' particolare per me, quest'anno sono cambiate le cose e mi sento importante. Quello per me, in questo momento, penso che sia la cosa più importante, anche se gioco di meno. Ho dato il mio contributo in questi dieci anni e penso che prima o poi c'è una fine a tutto. Non cambia niente per me, questa decisione è già stata presa da un po' di tempo, per quello no, adesso poi per me non cambia assolutamente niente. No, niente di particolare, io con la Juve ho un grandissimo rapporto che va oltre a tutto. Per quello io voglio dare il mio contributo, io non ho mai chiesto di andare via perché mi sembra che posso dare ancora molto e niente, solo questo. Penso che sia... Il Ferrara ne ha parlato di questo. C'è Luisa? Sì, Ciro lo sa, mi da tempo. Grazie.